Questo sicuramente è un progetto abbastanza ambizioso perché secondo me è un perfetto connubio tra quello che sono le esigenze dei pazienti e quelle che sono gli obiettivi dell'azienda. Si è molto più vicini al paziente in questo modo, con quella che viene definita praticamente una medicina d'iniziativa, si arriva nelle case del paziente, non lo si fa sentire solo e per quello che noi ci riguarda come ASL permette di diminuire sicuramente le liste d'attesa e dare una miglior assistenza a questi pazienti.